tutto solana minuto per minuto oggi bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video chi di voi ha riconosciuto questa sigla di minuto per minuto speriamo non mi bannano diciamo dai non vorresti voi i secondi va bene ragazzi allora chi di voi l'ha riconosciuta chi di voi è alla mia età se le ricorda queste cose va bene allora oggi parliamo di solana ragazzi ha fatto il botto proprio il botto dall'inizio dell'anno contro bitcoin contro dollaro moltissimi voi mi stanno chiedendo ma è il caso di investirci perché per per come per quando ragazzi allora solana era una delle mie cripto valute top a inizio dell'anno tra le altre cose ne avevamo parlato anche nella live a dicembre la prima live avengers sul canale di coin square e avevamo parlato proprio mi ricordo se non erro con zaragast proprio di solana come una delle cripto valute che piaceva entrambi allora solana ha fatto il botto per i diversi motivi 1 la questione legata al progetto anche se moltissimi dei l'hanno provata e non hanno trovato soddisfacente alcune sfaccettature della piattaforma che secondo me ancora ha molto da migliorare ma il progetto in sé veramente molto interessante da diversi punti di vista ora non andiamo ad analizzare il progetto come sempre facciamo nel mio canale youtube andiamo ad analizzare invece quella che la struttura tecnica ragazzi perché il progetto è assolutamente top e su questo non ci piove questo non vuol dire che la coin in questione il token continuerà a salire all'infinito ovviamente questo non sarà possibile sicuramente ha una cap abbastanza rilevante andiamo a vedere dove si sta posizionando dov'è come market cap a che punto è a una valorizzazione molto importante insomma già in questo momento ma poi andiamo a vedere anche il grafico e quali sono le eventuali prospettive da dove potrebbe magari modificare il cambio trend quali sono i segnali che potrebbero indicare che questo trend sta terminando vedremo il grafico sia contro dollaro sia contro bitcoin ragazzi allora qui è già solana la vedete dietro di diciamo dietro di davanti diciamo sul computer il grafico come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale prima di andare avanti lasciatemi anche mi piace fatemi sapere cosa ne pensate avete preso solana l'avete in portafoglio ce l'ho da un po e anche all'interno di uno dei miei train system tra le altre cose solana quindi è sicuramente una coin che è già da un po che mi sta dando soddisfazione anche se non è sicuramente parte importante del mio portafoglio in termini percentuali poi come sempre iscrivetevi anche al canale instagram ragazzi a trading on punto it ultimo annuncio c'è un nuovo scammer che sta cercando attraverso una fake mail ragazzi adesso ve la mostro ecco le ragazze allora nuovo nuovo scammer che si spaccia per me con la mail official vauro caimichiocciola gmail.com addirittura hanno messo anche l'official e me l'ha mandata un utente grazie guido intanto di avermi avvisato vi riavviso anche qui dopo la cronazione del canale youtube poi la cronazione del canale instagram ora la cronazione anche di una mail ragazzi totalmente fake ovviamente scrive male anche in italiano quindi non sono palesemente io ragazzi mi raccomando spargete la voce non vi fate fregare da questa gentaglia probabilmente questo non è italiano scrive anche male mi raccomando ragazzi ok non vi manderò mai e poi mai una mail per un investimento per qualcosa non faccio queste cose mi raccomando ragazzi e fate particolare attenzione mannaggia a questi scammer vabbè vuol dire che stiamo sulla strada giusta perché ci copiano addirittura anche gli scambere per fare le frodi diciamo quindi questa potrebbe essere una cosa che tutto sommato dovrebbe essere anche positiva forse per l'attività che stiamo svolgendo a livello lavorativo va bene a livello informativo e lavorativo ok solana eccoci qui intanto ragazzi andiamo a vedere quella che è la struttura di capitalizzazione di solana eccoci su coin market cap ragazzi allora questi ovviamente sono i dati relativi all'ultima giornata tra le altre cose oggi aveva iniziato con una fase di ribasso che poi come vedete ha ripreso e ha recuperato guardate che bomba di grafico a tre mesi a inizio anno grafico ad ascensore dobbiamo mettere logarittmico per vedere la sua struttura andiamo a vedere però quello che riguarda la market cap che è salita veramente in maniera importante e soprattutto ragazzi la posizione sul mercato è diventata la numero 8 solana è nelle top 10 in questo momento del mercato cripto e con una capitalizzazione importante di oltre 33 miliardi ragazzi quindi sono veramente tantissimi ovviamente poi ci sono vi faccio vedere anche la posizione direttamente così facciamo prima eccola qui è arrivata in top 10 allora ragazzi può continuare a salire allora considerando che la settima è doge la sesta è xrp sicuramente sì anche se è vicina a questa struttura però solana si avvicina in maniera anche importante a quella che è la capitalizzazione di binance coin e soprattutto ada nonostante ad abbia fatto i botti è vero che ancora è un terzo al di sotto di di ada stesso ragazzi però sicuramente il tasso di crescita è molto rilevante nonostante appunto ad abbia fatto veramente il botto negli ultimi negli ultimi mesi e soprattutto solana supera polka dot che era un progetto un po più anziano 8 da un punto di vista di marketing anche abbastanza sviluppato insomma stanno facendo bene i compiti a casa in soli sette giorni si sono portati a un più 64% 65% di upgrade sicuramente sono in hyper fase di di bolla probabilmente in hyper bull run ecco chiamiamola così andiamo a capire questa cosa giustificata sicuramente ragazzi quando unisci un buon progetto una buona qualità di progetto a quello che è un buon marketing e soprattutto quando inneschi un meccanismo all'interno del mercato delle cripto che vede questa spirale discendente per una questione anche del principio riflessivo che di cui vi ho parlato veramente tantissimo si innescano dei meccanismi di buy su buy buy su buy buy su buy che poi fanno il famoso grafico ad ascensore ragazzi cioè questo grafico che vi ho fatto vedere prima che è un classico oggettivo del mercato delle cripto questo grafico qui questo è il grafico ad ascensore bull run ma anche estremamente pericoloso allora molti di voi sanno che io non amo questo tipo di grafico però ragazzi la situazione legata a solana me la mostro anche su uno dei miei vecchi grafici eccolo qui ne avevamo parlato veramente tanto allora intanto questi erano tutti i livelli che lo scorso aprile vi avevo indicato anche in qualche video dove parlavo di questa cripto valuta quando ho fatto i miei video classici top top 5 e questi livelli con il famoso breakout sul questo intanto è solana contro bitcoin quindi non è neanche un grafico contro dollaro quello è veramente quasi verticale allora questo break dei massimi è una classica veramente classica figura di inversione e di ripresa scusate del trend rialzista contro il re in questo caso da qui in poi c'è stata la salita poi la fase di bassista di maggio che è stata molto più molto meno pronunciata di quella di bitcoin stesso quindi è riuscita in sostanza a mantenersi stabile ovviamente qui è contro bitcoin quindi poi contro dollaro ha perso però rispetto ad altre altcoin si è comportata benino benissimo no perché è difficile insomma benissimo nelle fasi di ribasso contro bitcoin però benino ragazzi ok dopodiché il precedente massimo è stato breccato questa settimana io vi ho fatto il video delle top 5 non era inserita solana il video l'ultimo video delle top 5 perché semplicemente dovevano essere 5 ve lo dico proprio chiaro cioè dovevano essere 5 ecco solana erano 6 poi ce n'erano anche altre però comunque ad ha fatto la stessa cosa di solana diciamo quindi non è poi li aggiorneremo diciamo il video di le mie top 5 per i per i mesi di settembre ragazzi che insomma stanno andando benissimo come potete andare a rivedere insomma anche voi stessi quei tipi di coin quelle quelle coin che abbiamo visto allora questo tipo di ingresso qui che è un classico ingresso di analisi tecnica poi quando qualcuno dice analisi tecnica non funziona perché non la sapete usare e non sapete neanche che cos'è perché non avete letto neanche un libro è per questo che non funziona ok poi ovviamente difficile ragazzi perché non è mai facile anche studiando farla questo sicuramente sì però guardate qui che ingresso assolutamente chiamato breakout dei massimi pullback sul massimo precedente e via a nuovo trend stesso identico meccanismo riproposto anche la scorsa settimana è lo stesso meccanismo di cui vi ho parlato proprio anche in quel famoso video non su solana ma per esempio su altre coin ha da in primis e l'ha fatto identicamente anche su ad ragazzi questo è un meccanismo classico di analisi tecnica per alcune tipologie di cripto valute come queste qui cioè quelle che entrano in una spirale rialzista questo meccanismo di breakout dei massimi pullback e poi ripresa anche semplicemente partecipare a un rialzo di questo tipo quindi con una classica figura di inversione portava comunque questo tipo di di rendimento anche a risultati notevoli contro bitcoin ragazzi vedete più 60 contro bitcoin nonostante bitcoin in questa fase da diciamo di tempo sia stato anche stabile o crescente quindi comunque tutto sommato in pochi in pochi giorni ragazzi non è un risultato cattivo insomma anzi ottimo allora andiamo a vedere da un punto di vista di strutture di prezzo dove si può avere un'inversione di trend allora mi piace utilizzare sul grafico settimanale la mia media mobile a 26 periodi che la media ciclica del semestrale come potete vedere in maniera abbastanza chiara è impossibile andarla a utilizzare come livello di stop perché veramente molto bassa su solana quindi ragazzi trend assolutamente rialzista contro bitcoin vi faccio vedere anche il trend contro usd che è peggio ragazzi è ancora più rialzista contro usd non ha mai invertito ha usato la media a 26 quindi la media del semestrale media ben sei periodi sulla settimana ragazzi quindi non daily 26 settimane quindi la media semestrale come appoggio delle fasi di bassiste questo è difficile da valutare perché eravamo in una fase iniziale del progetto e poi vedete una ripresa del trend qui però siamo a 1 2 3 4 5 6 7 settimane verdi assolutamente contro dollaro ragazzi che trend insomma ci sta tutto quanto potrebbe avere un'eventuale fase di pullback ma difficile che questi tipi di coin abbiano un pullback sui massimi precedenti non avviene spesso quindi intorno ai 65 dollari non avviene spesso ragazzi quello che avviene più facilmente che semplicemente si riposano magari all'interno di questa struttura magari potrebbe arrivare a fare una candela di riposo nelle prossime settimane appoggiandosi in questa zona degli 80 per poi riprendere il suo trend cosa ben diversa e se andiamo a ragionare invece in termini di inversione di trend allora andiamo a prendere delle medie che sono più piccole come per esempio la media a a 23 che è a scusate a 13 23 stavo confondendo perché volevo cambiare il colore perché questa qui è più veloce chiaramente allora se andiamo a prendere questo tipo di media vediamo ragazzi che è vicino però anche qui a tre mesi è difficile avere un po' quei livelli insomma di trailing stop che magari insomma ci servono in questo in questo caso proprio perché la velocità di rialzo è stata troppo troppo invasiva andiamo a prendere ulteriormente quella del mese è già questa magari ci può dare un ottica maggior migliore in questo caso quindi una maggiorato sull'eventuale livello di rischio ragazzi che è esattamente la stessa media che ha accompagnato il precedente fase di trend cioè una media velocissima ragazzi che sono sette settimane sono circa due mesi un mese e mezzo circa ok questa media è in questo momento vedete posizionata intorno ai 60 quindi questa zona su solana è un punto importante quindi se avete le posizioni aperte volete sapere qual è una zona che potrebbe nel brevissimo periodo dare problemi di inversione se va giù al di sotto dei 60 dollari potrebbe essere complicato ma al di sotto i 60 dollari come vedete ragazzi vuol dire perdere praticamente il 50 per cento dall'attuale quotazione quindi comunque insomma parliamo di numeri spropositati se volessimo andare invece ancora di più nel breve ci dobbiamo spostare di time frame dalla settimanale alla daily e andare a ragionare in termini della dei sette giorni in questo caso quindi proprio di grafici veramente molto veloci molto rumorosi quindi soltanto per operazioni di brevissimo e in questo caso si possono vedere delle aree leggermente diverse da quelle precedenti per esempio già la zona di 93 potrebbe essere indicativa di un'eventuale presa di profitto così come il ribasso al di sotto di questa fascia quindi sempre 80 ragazzi quindi rientro in fascia tra 80 e 64 potrebbe essere indicativo di una perdita importante di forza nel breve periodo quindi queste sono tutte aree di supporto moltissime avete detto la compro poi che faccio allora se noi optiamo per la strategia by the deep in questo caso quindi al caso isolano cioè se ci andiamo a comprare tutti quelli che sono le deep di isolano cavalchiamo il trend poi dobbiamo uscire o in take ragazzi se fate operazioni di trading oppure se abbracciate il progetto poi andate in hold però ragazzi abbracciare un progetto dopo un rialzo di questo tipo per holding di lunghissimo se ce l'avete già ok se li state prendendo adesso dopo un trend ascensore il rischio è molto molto alto quindi io farei così andrei in questa fase a ragionare a livello di trading poi se il mercato mi premia mi dà più cento per cento allora posso trasformare in quel caso la mia operazione in holding perché sono già in vantaggio sul mercato altrimenti ragionerei più sulla fase di trading in questo momento ragazzi perché ha dato veramente tanto solana quindi andare a comprare in questo momento la coin e dire la tengo tre anni rischiate che vi fa un'inversione brusca perché può farla ragazzi perché nei mercati delle criptovalute quando avviene un pump ad ascensore poi quando arriva il top perché questo pump ad ascensore avviene perché c'è come dicevo prima il principio riflessivo quindi una coin sale tutti ci investiamo nel momento in cui tutti i capitali vanno lì perché cresce molto bene tutto funziona però alla primo segnale di inversione avviene il contrario tutti iniziano a bloccare a stoppare e la coin ci fa un meno 30 meno 40 quindi poi cosa succede succede che dal top inizia a scendere come ha fatto d'oggi per esempio che anche se oggi mentre non aveva il progetto di solana dietro questo è ovvio però gli atteggiamenti in termini di grafico di prezzo sono questi poi magari dopo due anni riprende il suo trend arriva su e vi faccio l'esempio di chain link lo scorso anno ha avuto lo stesso tipo di atteggiamento di solana quindi iper hype per un determinato momento e poi è passata nel dimenticatoio per un anno e mezzo questo non vuol dire che il progetto non c'è più esiste però semplicemente ragazzi hanno raggiunto un livello di equilibrio tale che poi ci vogliono due anni a riprendere un nuovo trend importante perciò se siete su progetti di questo tipo e state cercando un punto di ingresso per essere holder questo non è un buon momento dovevate farlo a inizio anno quando ne abbiamo parlato a inizio anno se però non volete perdere il treno quindi siete in fomo magari non volete perdere questo questo treno che sta passando utilizzate un ingresso e gestitelo però per i primi mesi in termini di trading cioè se poi il mercato vi gira conto chiudete aspettate un po purtroppo dovete faticare perché stiamo salendo su un treno già in corsa anzi già arrivato a più di una stazione ok quindi è pericoloso questo tipo di ingresso perciò bisogna mediare un po le cose poi se il mercato vi premia e vi fa un altro 80 90 nei prossimi mesi allora lo trasformate in oldo e siete tranquilli perché tanto magari avete margine di uscita se le cose girano proprio storto ok questa è la mia idea generale per darvi un consiglio a chi di voi in questo momento sta cercando un punto di ingresso su solana me l'avete chiesto veramente in tanti vi ho indicato un'aria limite i punti di ingresso sono tutte le dip in pratica anche quella di oggi ragazzi se proprio volessimo allora la prima dip è alla vicino alla media a 7 quindi intorno ai 99 100 quindi ok insomma quando arriva qui questa è una è una dip per esempio e si può andare in long e poi come vi dicevo se il mercato vi gira contro vi scende in quest'area incominciate avere debolezza bisogna andare con tecniche di trading a chiudere e poi a ripensarci perché casomai dovesse invertire poi la si vede male ragazzi ricordatevi che da un punto di vista di rialzo intanto i titoli non salgono e in questo caso le coin non salgono all'infinito ragazzi ok quindi levatevi dalla testa questa cosa non lo fa neanche bitcoin comunque dalla scorso anno in un anno solana contro dollaro ha fatto il 11 mila 408 per cento 11 mila 408 per cento ok ok quindi mi raccomando se torna e perde insomma un po non è che c'è non è che diciamo siamo su un progetto negativo va bene ok fatemi sapere cosa ne pensate attenti a queste cose che vi ho detto e soprattutto al modo di ragionare e fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti soprattutto di questa idea che mi è venuto di questo modo che mi è venuto di ragionare e del consiglio che vi ho dato lo apprezzate o no e soprattutto condividete questo stesso atteggiamento confrontiamo ciao a tutti ragazzi ci vediamo nel prossimo video